Saranno affissi in città nelle prossime ore o almeno così hanno assicurato dalla società che gestisce le pubbliche affissioni. Intanto il Comitato Casemagno ha fatto da sé, forse non contando molto sulla possibilità di vederla nelle strade della Lecce da Cartolina, la guida turistica amara e provocatoria che propone un percorso alternativo tra le brutture e le disfunzioni dell'altra Lecce, quella delle periferie in annosa attesa di riqualificazione e di interventi. Quando si parla di Lecce candidata nel 2019 come capitale culturale, ma di quale cultura, dobbiamo parlare, quella che ci viene dal passato o di quella delle periferie di oggi, di questi ultimi vent'anni, la cultura dei giorni nostri, questi amministratori e la cultura delle periferie. Le periferie stanno già passando un periodo che è quello che se la legge è uguale per tutti, la città è uguale per tutti, dalle periferie al centro. La gran parte delle tappe di questo tour che spaziano alle carenze nella segnaletica, all'arredo urbano, alla gestione dei rifiuti, alla cura degli spazi pubblici, riguarda però quella che per il Comitato è la madre delle questioni, il degrado degli alloggi comunali tra muri che piangono per le perdite, umidità ad affrescare le volte e ringhiere pericolanti. Un promemoria a supporto delle istanze che si spera verranno affrontate nel Consiglio Comunale monotematico da convocare ai primi di settembre.